A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti, sono Massimo Lucini, seguo la parte commerciale di Snom. Prima di tutto vi do il benvenuto a questo webinar in cui parleremo del NAT. Insieme a me ci sono Claudio Rizzi di Alias e Gian Maria Tononi di Snom. Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, questo è un percorso, quindi non è un webinar singolo. Non approfitto prima di partire in modo tale che magari temporeggiamo anche brevemente in attesa che arrivino tutti coloro che si sono iscritti, perché di solito nei primi cinque minuti dopo il webinar ci sono molti ingressi. Come dicevo, è un percorso, quindi oltre a questa sessione abbiamo già pianificato altre due date. Una dove vedremo la personalizzazione dei telefoni, quindi dall'immagine di sfondo al cambiare banalmente anche tutti i colori dei pulsanti, di quello che poi compare effettivamente al display, infine la personalizzazione anche della parte hardware. Abbiamo introdotto, ne discutevamo poco fa, di introdurre un webinar poi a fine febbraio dove parleremo invece di multicella, quindi di tutto ciò che riguarda il mondo DEPT di Snom, dove vi metteremo nel caso, nella condizione di poter fare un sopralluogo, quindi essere indipendenti nel definire i raggi di copertura, nel definire un ambiente multicella e quindi capiremo meglio che cosa significa decibel, come fare delle misurazioni e come fare delle installazioni a livello basilare. Infine abbiamo un ultimo webinar che abbiamo fissato per marzo, dove parleremo un po' più sulle novità commerciali, lì di sicuro sarà il momento in cui avremo introdotto anche la nuova serie 8 e quindi entreremo nel dettaglio di tutti i prodotti che in quel periodo avremo lanciato. A questo punto direi, Claudio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, sì, allora io per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Claudio Rizzi e sono il Product Manager's Nome all'interno di Alias, quindi se avete la necessità, se avete bisogno di un'offerta o anche domande di pre-vendita potete rivolgervi a me. Sempre da me, poi comunque al termine del webinar riceverete una mail di follow-up, quindi con le slide del webinar che vedrete oggi, ma anche con la registrazione stessa, quindi se avete bisogno di rivedere qualche punto, vi siete persi qualche passaggio, lo potrete tranquillamente fare. Niente, io lascio la parola a loro. Esattamente, sì, perché tanto arriva sempre la telefonata dell'ultimo momento o qualche cosa per cui ci si deve staccare o banalmente, come dico sempre, magari un webinar che vi può piacere e che potreste avere piacere poi di condividerlo con dei vostri collaboratori. A questo punto, prima di dare la parola a Gian, ti faccio un'ultima domanda, Gian Maria. Se dovesse arrivare delle domande, preferisci che ti interrompo o preferisci che lasciamo uno slot finale dedicato alle domande? Allora, io direi di lasciare lo slot finale è diviso in, diciamo, comunque dei sottotemi, quindi io terrò sott'occhio le domande, così non andare magari troppo oltre. Però ecco, chiunque abbia necessità, potete sempre fare domande nella sezione apposita qui su GoToWebinar, appunto, proverò a tenerci un occhio tra una sezione e l'altra, se me le perdo, oppure se anche vi vengono domande più avanti, le guardiamo tutti insieme alla fine senza nessun problema. Perfetto. Va bene, allora ti lascerei la parola così possiamo iniziare con il webinar. Perfetto. Grazie mille l'introduzione, Massimo Claudio. Io, come diceva Massimo, sono Gian Maria Tanoni, faccio parte del team di supporto tecnico di Snom e sarò appunto il relatore del webinar di oggi. Sono un pochino raffreddato, quindi se farò delle pause per forse soffiarmi il naso e cose di questo tipo, ma penso sia un po' la stagione per tutti. Allora, questo webinar è appunto incentrato sul NAT e sul rapporto tra il NAT e il VoIP. Questa è un po' l'agenda di questo webinar, che insomma non sarà comunque lunghissimo, quindi io direi che possiamo partire direttamente con definizioni, le tipologie di NAT, degli esempi di funzionamento e poi come vedrete andremo un po' a vedere il rapporto tra il NAT e il VoIP, tra il NAT e il SIP e l'RTP nel nostro caso e alcune delle soluzioni applicabili che se non siete trovate e che vengono utilizzate per ovviare i problemi di NAT, che come vedremo ci sono e non sono pochi. NAT sta per Network Address Translation e è quella tecnica fondamentalmente che ci permette di modificare le intestazioni dei pacchetti IP in modo da cambiare l'indirizzo sorgente o destinazione con un altro indirizzo. È stata codificata in una RFC specifica che è la 3022 ed è stato inventato, creato fondamentalmente per permettere il riutilizzo di indirizzi IP chiamati locali, quindi tutti quelli che utilizzate nella vostra sottorete e il NAT è stato appunto introdotto per raggruppare tutti questi indirizzi locali con un solo indirizzo IP pubblico. È stato introdotto perché fin da ormai moltissimi anni il numero di indirizzi IP pubblici nella versione 4 del protocollo IP non è nemmeno lontanamente sufficiente per poter assegnare un indirizzo IP pubblico ad ogni dispositivo che vogliamo connettere in rete, quindi bisogna utilizzare questo trucchetto del rimappare gli indirizzi IP privati in un unico indirizzo IP, uno o più in realtà assolutamente indirizzi IP pubblici. Tutto questo lavoro, quindi tutto questo lavoro di NAT viene solitamente effettuato dagli apparati che interfacciano la rete interna con quella esterna che sono, negli esempi comuni, router e firewall. Perfetto, questo è un primo esempio molto semplice di NAT, il livello più semplice possibile. Da destra a sinistra abbiamo un pacchetto IP che è traslo da un telefono a un media server, a un proxy in generale. Come vedete inizialmente nella rete del telefono l'indirizzo source, quindi l'indirizzo da cui è stato inviato questo pacchetto è un indirizzo locale, 192.168, quindi è un indirizzo privato. Dopo il NAT, che in questo caso sarà un firewall o uno switch con firewall integrato, l'indirizzo di source è invece un indirizzo IP pubblico, 135.18, non so se riuscite a vederlo bene, comunque sono degli indirizzi IP pubblici, ci importa poco in questo webinar la tipologia, cioè l'indirizzo specifico, e mentre la destinazione era sempre un indirizzo IP pubblico sin dall'inizio, quando arriviamo nella rete di destinazione ci sarà un NAT che fa l'opposto di quello che ha fatto il NAT iniziale e va a cambiare l'indirizzo IP di destinazione da un indirizzo IP pubblico a un indirizzo IP privato. Questo permette in entrambe le due sottoreti private la corretta canalizzazione del pacchetto IP, ma ovviamente permette anche che venga canalizzata correttamente anche sulla rete esterna pubblica, perché non avrebbe senso inviare un pacchetto con un indirizzo IP privato nella rete pubblica ovviamente. Ci sono quattro tipologie fondamentalmente di NAT, quindi quello che abbiamo visto è un po' il comportamento generale, l'idea generale che c'è dietro al NAT, ma ce ne sono fondamentalmente quattro tipologie, come vedremo si distinguono per alcuni dettagli, il più utilizzato ormai quasi sempre è l'ultima tipologia, il NAT simmetrico, quindi vedremo un po' cosa questo comporta come limitazioni ulteriori. Il primo NAT che andremo ad analizzare è quello che viene definito full cone, è anche definito come NAT one to one, quindi uno ad uno, ed è molto semplicemente, utilizzeremo durante questi esempi questa terminologia, quindi EXEP che vuol dire un indirizzo IP con la porta interno, EXEP che è un indirizzo esterno, in questo caso il NAT full cone o one to one fondamentalmente fa sì che ogni volta che un indirizzo interno, quindi un telefono, un qualsiasi dispositivo interno, un host interno, invii un pacchetto IP verso l'esterno, ogni pacchetto venga inviato attraverso una certa determinata porta e un certo determinato indirizzo IP pubblico esterno, quindi EXEP. Una volta che si è creato questo legame, diciamo, quindi una volta che il NAT ha deciso di affidare questa coppia di indirizzo IP e porta esterni a questo utente interno, qualsiasi host esterno, quindi qualsiasi utente esterno, può inviare i pacchetti a questa porta e a questo indirizzo IP pubblici e il NAT in automatico li invierà al dispositivo interno, quindi è per questo che viene definito one by one perché la mappatura è proprio uno a uno e una volta che viene effettuata viene mantenuta almeno di ovviamente il NAT che per esempio ogni 24 ore rinnova le porte, ma in quel caso viene semplicemente ricreata una nuova mappatura, però è sempre uno ad uno. La cosa importante di questo tipo di NAT full cone è che come vedremo non ha una delle restrizioni che gli altri hanno, cioè un utente esterno può iniziare una sessione di pacchetti IP, una sessione di qualsiasi tipo, con l'utente interno senza bisogno di nient'altro se no l'indirizzo IP pubblico e la porta pubblica. Per capirci un attimino meglio, questo è un esempio molto semplice, l'host A, come vedete, è un host interno, 192.168.2.2, invia un pacchetto all'host B, in mezzo c'è un full cone NAT che quindi va a rimappare l'indirizzo sorgente in 1.1.1.4 con la porta 10.100, ovviamente l'utente B può rispondere su questo indirizzo, su questa porta, ma anche un utente C, come vedete nell'ultima transazione sotto, che non ha mai avuto a che fare con l'utente A, quindi non ha mai ricevuto il pacchetti dall'utente A, se conosce questo indirizzo IP e questa porta, perché per esempio è sulla stessa sotto rete di B e si scambiano queste informazioni, può inviare pacchetti direttamente ad A, quindi inviandoli direttamente a 1.1.4, 1.1.1.4 porta 10.100, ovviamente questi pacchetti raggiungeranno il NAT, quindi raggiungeranno l'estremità della rete, e il NAT poi li tradurrà in pacchetti con un indirizzo di destinazione locale che verranno inviati ad A. Quindi non serve che A apre una sessione con C affinché questo vada a buon fine, perché la mappatura tra A e l'indirizzo IP e la porta esterni viene fatta dal full cone 1.1, quindi non c'è nessun altro che risponderà a quella porta. La seconda tipologia è di tipo restricted cone, come già si può cominciare a rituire, il full cone ovviamente è un cono pieno, quindi che permette tutto, quindi tutto passa. Restricted cone è un pochettino diverso. Allora, in questo caso la grossa diversità è che un osso esterno, quindi qua viene indicato come hx2.ni, quindi un utente esterno con un indirizzo IP qualsiasi e una porta qualsiasi, può inviare i pacchetti all'utente interno, allo user interno, destinandoli a questo tipo, scusatemi, a questo indirizzo IP e questa porta pubblici che vengono comunque mappati uno ad uno dal restricted cone NAT, quindi viene fatta una cosa simile a quella di prima. La restrizione sta nel fatto che un utente esterno può inviare i pacchetti correttamente a questo IP pubblico e a porta pubblica, soltanto se l'utente interno prima ha aperto una sessione, quindi ha inviato almeno un pacchetto verso l'utente esterno. In questo caso, quindi, un utente esterno non può inviare un pacchetto a questo indirizzo IP pubblico con la sua porta se non ne ha ricevuto uno prima. Questa è la restrizione del NAT di tipo restricted cone. Quindi, ovviamente, soltanto gli utenti interni possono aprire una sessione verso gli utenti esterni, perlomeno una prima volta. L'esempio è questo. Come vedete, i primi tre scambi sono identici a prima, quindi A parla con B, B risponde su quell'indirizzo IP e quella porta, benissimo. Quando C prova a rispondere, anzi non rispondere, scusate, ad aprire una sessione verso A, utilizzando l'indirizzo IP e la porta corretti, perché vengono comunque assegnati uno ad uno, quindi A su questo tipo di NAT comunque avrà sempre l'indirizzo IP 1.1.1.4 e la porta 10-100. Però con il fatto che A non ha mai contattato C, il restricted cone NAT non tradurrà il pacchetto arrivante da C con l'indirizzo interno di A e quindi non lo lascerà passare. Se vedete gli ultimi due scambi, invece A a questo punto A apre una sessione con C e a questo punto C può rispondere. Se guardate gli indirizzi IP, sia di destinazione che di partenza, di C ed A, sono gli stessi nei due scambi, sia in cui C viene rifiutato che in cui C viene accettato. La differenza è che è proprio la tipologia di NAT implementata in questo caso che va a rifiutare la connessione a C perché non è stata aperta dall'oste interno. Ci sono delle motivazioni assolutamente legate alla sicurezza perché questo tipo di NAT viene implementato ed è una tipologia diffusa almeno quanto il full cone NAT. Quindi si basa, come vedete, sullo stesso funzionamento ma ha questa piccola restrizione aggiuntiva. La terza tipologia, anche qui è molto simile alla seconda che era molto simile alla prima quindi si parla sempre di cone NAT è il port restricted cone quindi come vedete è simile a restricted cone ovviamente ma la restrizione è estesa ai numeri di porta questo cosa vuol dire? Che comunque ogni volta che un indirizzo interno è un utente interno con un indirizzo EXIP quindi con un indirizzo IP privato e una porta viene mappato su un indirizzo esterno EXIP tutti i pacchetti che vengono inviati dall'utente interno passeranno su questo indirizzo pubblico indirizzo IP pubblico e questa porta esterna quindi la mappatura comunque avverrà uno ad uno al contrario l'osso esterno allora in realtà non credo venga spiegata la vediamo forse meglio nell'esempio allora facciamo così aspettate un attimo, scusatemi un osso esterno ok, sì, sì, no, scusatemi è scritta correttamente un osso esterno può inviare quindi nel nostro caso, nei nostri esempi l'osso B o l'osso C possono inviare un pacchetto all'indirizzo pubblico e alla porta pubblica dell'utente interno solo se stanno rispondendo dalla stessa porta con cui era stata aperta la comunicazione dall'utente interno quindi, mentre nel caso precedente del restricted call NAT la cosa importante era l'indirizzo IP dell'utente esterno quindi se io internamente ho aperto una sessione con l'utente B la cosa importante è l'indirizzo IP quindi se B risponde allo stesso indirizzo IP il messaggio verrà fatto passare dal NAT in questo caso la restrizione non è solo sull'utente esterno ma anche sulla porta quindi i pacchetti che provengono dall'utente esterno devono sempre provenire dall'indirizzo IP e dalla porta specifica con cui l'utente interno ha già aperto una connessione uno scambio di pacchetti ed è questo appunto che si vede nell'esempio A invia un pacchetto verso B e l'indirizzo IP di destinazione è 1.1.1.5 porta 7777 B per qualsiasi motivo probabilmente di NAT che viene utilizzato sulla rete in cui è B risponde correttamente all'indirizzo IP di A quindi all'indirizzo IP ovviamente pubblico quindi risponde correttamente al NAT ma il pacchetto proviene sì dallo stesso indirizzo IP ma da una porta diversa la porta 4.3.2.1 questo tipo di pacchetto che sarebbe stato accettato dal full cone o dal restricted cone NAT viene invece rifiutato dal port restricted cone questo perché la restrizione di questo tipo di NAT si estende anche alla porta B deve per forza rispondere come nel terzo scambio con un pacchetto che ha come sorgente il proprio indirizzo IP e la porta 7777 cioè la porta con cui A aveva già aperto una comunicazione quindi è una restrizione ulteriore che non va soltanto a restringere gli utenti esterni basandosi sul loro indirizzo IP ma va anche a restringere gli utenti esterni basandosi sulla porta che gli utenti esterni utilizzano il NAT di tipo simmetrico è un NAT di tipo diciamo completamente diverso ovviamente no perché comunque è un NAT però non fa parte della tipologia cone quindi ci spostiamo un attimo in questo caso tutte le richieste provenienti da un utente interno vengono mappate su un indirizzo IP pubblico ed una porta esterna che dipendono dalla destinazione che questo pacchetto ha quindi se io invio un pacchetto ad un utente B e un pacchetto ad un utente C questi due pacchetti verranno mappati su una copiata indirizzo IP pubblico porta diversi generalmente nella maggior parte dei casi l'indirizzo IP sarà lo stesso perché abbiamo un indirizzo IP assegnato assolutamente per ogni sottorete ma la porta sarà diversa quindi la porta esterna viene assegnata in maniera univoca per ogni diciamo scambio di pacchetti IP che l'utente interno inizia con un host esterno come vedete qui abbiamo un altro esempio ovviamente c'è il symmetric NAT che fa uscire i pacchetti da A quando A parla con B in questo caso utilizza un indirizzo IP pubblico 1.1.1.4 che abbiamo visto finora ed una porta specifica che è la 10.100 e B può rispondere su questo indirizzo su questa porta quando A apre invece una sessione con C utilizza lo stesso indirizzo IP pubblico perché come dicevamo solitamente un solo indirizzo IP viene assegnato al NAT e a quello al sottorete ma utilizza una porta diversa che è la 10.179 C può rispondere ovviamente utilizzando quella porta senza nessun problema quando nel quinto e ultimo scambio C prova ad inviare un pacchetto ad A utilizzando come destinazione l'indirizzo IP e la porta che A aveva utilizzato con B viene rifiutato questo perché c'è univocità tra l'indirizzo IP pubblico e la porta esterna che il NAT assegna all'utente interno per ogni utente esterno con cui ha iniziato una transazione uno scambio di pacchetti SIP quindi questo viene definito NAT di tipo simmetrico ogni NAT ha delle restrizioni ogni NAT ha dei vantaggi ogni NAT ha degli svantaggi come dicevamo il colore di tipo simmetrico è il più utilizzato al momento per questioni anche in realtà di semplicità di implementazione come vedete il full cone è l'unico per cui non è necessario inviare dei dati da un host interno quindi chiunque dall'esterno se conosce il mio IP pubblico e la mia porta può aprire una sessione IP al contrario il simmetrico è l'unico che non mi dà la possibilità di determinare l'indirizzo IP e la porta che verranno aperti perché ovviamente se apro una sessione con un nuovo utente con il quale non ho mai aperto sessioni verrà assegnata in maniera univoca una nuova porta quindi a priori non la posso non la posso conoscere e l'ultima colonna obbliga i pacchetti alla destinazione IP porta nel caso del full cone no nel senso che chiunque può inviarli allo stesso IP porta quindi ovviamente andranno inviati a quello ma si possono utilizzare chiunque dall'esterno può utilizzare lo stesso IP la stessa porta restricted cone solo IP quindi posso utilizzare una porta qualsiasi di provenienza ma non un indirizzo IP qualsiasi perché comunque deve essere l'utente interno che apre la comunicazione nel caso del port restricted cone del simmetrico si nel senso che i pacchetti possono arrivare soltanto dando indirizzo IP ed una porta esterni specifici quindi da un utente specifico con il quale ho già aperto una connessione altrimenti verranno rifiutati dal NAT diciamo che il simmetrico è il più diffuso capita spesso che vengono combinate diciamo più tipologie di NAT in realtà la più comune è appunto il simmetrico con una mappatura delle porte statica quindi dove so che una volta che apro la comunicazione con un certo utente esterno la porta sarà sempre quella quindi anche se l'utente esterno vuole aprire una comunicazione con me la porta è già stata destinata quindi lo può fare in realtà anche se non ho ancora aperto una comunicazione verso l'esterno perché viene mappato in maniera statica se port preservation è una procedura che viene utilizzata spesso nel NAT per semplificare le cose soprattutto a livello di gestione da parte appunto del firewall o router che utilizzano il NAT che vuol dire che vengono utilizzati gli stessi valori per il numero di porte interni ed esterni quindi se io internamente mando un pacchetto verso il NAT dalla porta 5000 il NAT utilizzerà esternamente l'indirizzo IP pubblico e la porta 5000 può succedere ovviamente che più indirizzi interni più utenti interni utilizzino la stessa porta in questo caso la porta esterna per il secondo chi la utilizza avrebbe scelta a caso quindi si ritorna diciamo alla procedura random in cui la porta viene scelta a caso ci sono ovviamente dei vantaggi che il NAT ha introdotto altrimenti non saremmo qui a parlare di NAT visto che poi vedremo gli svantaggi se non avesse dei vantaggi ovviamente non lo utilizzeremo come dicevamo prima è riuscito a risolvere almeno parzialmente nel senso che comunque c'è una carenza di indirizzi IP pubblici là il problema di indirizzi IP versione 4 pubblici disponibili non sono assolutamente necessari sufficienti scusatemi per assegnarne uno ad ogni dispositivo ormai connesso in rete gli indirizzi privati quindi l'indirizzo che il vostro telefono il vostro computer prende dal DHCP non deve essere cambiato per uscire verso la rete esterna quindi questa è una cosa che ovviamente non facciamo mai perché il nostro indirizzo IP prende il nostro dispositivo prende un indirizzo IP interno e poi in automatico verrà cambiato i dati viaggiano in maniera trasparente e possono funzionare con tutti i protocolli più diffusi ovviamente è stato pensato ed introdotto per l'utilizzo con il protocollo TCP IP o UDP IP con il quale funziona benissimo senza nessun problema e va beh può essere considerato un fattore di sicurezza aggiuntivo nel senso che nessuno dall'esterno conosce il mio attuale indirizzo IP quindi tutto viene inviato al NAT e nessuno mi può raggiungere direttamente quindi se invece io avessi sul mio telefono un dispositivo un indirizzo IP pubblico ovviamente chiunque dall'esterno li potrebbe raggiungere direttamente in questo caso invece il tutto viene filtrato dal NAT ci sono degli svantaggi come dicevamo altrimenti non ci sarebbe questo webinar vabbè non è conforme ad alcuni diciamo protocolli che prevedono che i pacchetti non vadano modificati da end to end quindi quando io invio dei pacchetti da un utente interno da un utente esterno ci sono dei dettami di alcuni protocolli che dicono che i pacchetti non dovrebbero essere modificati il NAT modifica l'intestazione dell'indirizzo IP dei pacchetti quindi sicuramente li modifica ci sono degli algoritmi specifici alg sta per l'algoritmo fondamentalmente che supportano l'inserimento degli indirizzi IP pubblici vedremo poi che uno dei grandi problemi è quando si utilizza il VoIP il SIP che il SIP utilizza nei campi contatto per esempio degli indirizzi IP locali che vanno invece diciamo modificati con degli indirizzi IP pubblici che poi vedremo cosa questo comporta e come si può risolvere i pacchetti che passano dal NAT devono sempre essere deframmentati e modificati reimpacchettati e rinviati cosa che può andare ad influire in maniera anche molto pesante a seconda del traffico dall'interno all'esterno sui sugli apparati hardware che implementano il NAT quindi router o firewall in generale devono prendere tutti i pacchetti che arrivano spacchettarli modificare l'indirizzo IP pubblico interno scusate non pubblico l'indirizzo IP privato interno con l'indirizzo IP pubblico esterno a rimpacchettarli e poi inviarli in più difficilmente a meno di qua si dice si parla di complicate acrobazie ma verosimilmente il penso il 99% delle reti utilizzano un solo NAT verso l'esterno che è quindi un single point of failure perché se questo NAT avesse qualche problema io non posso più comunicare verso l'esterno se pensiamo a tutti i dispositivi di una sottorete aventi un indirizzo IP pubblico assegnato a loro stessi potrebbero comunicare indipendentemente da questo NAT che va verso l'esterno quindi ovviamente potrebbe essere causa di problemi insomma il famoso collo di bottiglia dove tutto passa da qui e quindi ovviamente se qui si presenta un problema il problema è poi espanso a tutta la rete ci sono dei problemi specifici a parte questi svantaggi che abbiamo visto sui protocolli VOIP SDP H323 ma soprattutto sul SIP che è quello che vedremo un po' più in dettaglio oggi sul supporto del NAT da parte dei dispositivi che utilizzano appunto questi protocolli il NAT come dicevo poco fa non traduce in realtà tutte le apparizioni dell'indirizzo IP privato dentro un pacchetto ma lo fa soltanto nell'header IP l'header IP è soltanto una delle parti che in realtà contiene l'indirizzo IP e che basa il proprio installamento sull'indirizzo IP ok ci sono degli esempi perfetto giusto per non ricordo che ordinano le slide nel caso di SIP SDP e RTP che sono i tre diciamo protocolli che utilizziamo sui telefoni per instaurare una sessione SIP una chiamata e per scambiare appunto il flusso RTP e il flusso audio i problemi principali sono che gli indirizzi privati contenuti nei campi contact e via del pacchetto SIP non vengono modificati dal NAT perché modifica soltanto l'intestazione quindi l'header IP dei pacchetti quindi non va nei sottoprotocolli contenuti in questi pacchetti e non va a fare nessuna modifica gli indirizzi privati sono presenti anche nella sezione sdp dei pacchetti SIP quindi se avete presenti una sezione sdp anche qui verranno indicati come contatto e come media l'indirizzo IP privato e la porta privata che il telefono sta utilizzando ci sono problemi legati al SIP su dp che se viene utilizzato con i NAT molti NAT hanno un arco temporale dopo i quali dopo il quale libero l'assegnamento prima parlavo di 24 ore che è abbastanza tipico tra virgolette dopo 24 ore il NAT rinnoverà l'assegnamento dell'indirizzo IP e della porta corrispondenti ad ogni dispositivo interno può essere meno può essere più può anche essere statico in realtà se questo succede il SIP aveva creato una sessione UDP la sessione UDP per definizione non viene chiusa in questo caso quindi il dispositivo basato su SIP proverà sempre ad utilizzare la porta diciamo la porta all'indirizzo IP pubblici che non sono più però più validi quindi la soluzione a questo è banalmente vengono inviati da equipa live solitamente tra il Pbx e il telefono per assicurarsi che tutto sia ancora registrato e funzioni correttamente la sessione RTP deve essere simmetrica quindi se diciamo io apre una sessione RTP quindi una sessione audio con un dispositivo esterno quindi da un telefono un Pbx da un telefono un telefono la sessione deve avere origine dalla stessa porta in cui dalla quale l'altra sessione ha avuto luogo quindi questo è un attributo dell'SDP e fondamentalmente è stato pensato affinché appunto la sessione RTP rispecchi le porte da una parte all'altra cosa che non succede sempre in generale non è garantita in nessun modo nel caso si volesse interagire e modificare il messaggio SIP con un application level gateway quindi con un gateway il messaggio SIP non può utilizzare TCP e TLS fondamentalmente perché le specifiche in TCP e TLS fanno in modo nel caso soprattutto del TLS che il pacchetto sia cifrato quindi non può essere modificato da un gateway di livello application che nello stack protocollare è sopra al livello SIP e quindi non ha visibilità della parte SIP quindi se io utilizzo TSPIATLS vado ad impedire che il pacchetto venga spacchettato correttamente questo è un esempio proprio diciamo il più semplice possibile sul problema che il NAT introduce come vedete ci sono i diversi livelli protocollari IP che comprende tutto UDP in questo caso che comprende il SIP che a sua volta comprende l'SDP quando invio un invite da in questo caso dal basso verso l'alto da Carol verso Ellen in questo caso in mezzo avremo una specie di non una specie un dispositivo in questo caso è un router che fa da NAT e da firewall quando i pacchetti passano da questo router come vedete la parte IP e UDP vengono modificate quindi quando esco sulla rete internet sulla rete pubblica il mio pacchetto verrà modificato dove l'indirizzo di destinazione non è più l'indirizzo privato di Carol 192 168 ma è un indirizzo IP pubblico qui non ci vediamo stata la porta che Carol stava utilizzando ma generalmente potrebbe essere diversa dalla porta che è assegnata dal NAT che è 28 69 un pochino sfocato scusatemi però vedete che tutti i sottopacchetti siccome il NAT si occupa soltanto dei primi due livelli dello stack protocollare delle primi due applicazioni IP e UDP o IP TCP IP insomma in generale qualsiasi accoppiata come vedete tutto ciò che sta al di sotto quindi SIP e SDP manterranno l'indirizzo IP privato con cui sono state inviate questo vuol dire che se questo pacchetto viene consegnato in una sottorete esterna quindi passano la mia sottorete chiamiamola A alla sottorete B sebbene sia stato consegnato correttamente alla sottorete corretta e poi arriverà effettivamente a LN in questo caso che è un laptop quindi sarà probabilmente un softphone su un laptop perché è nata ha fatto il suo lavoro quindi dalla destinazione scusatemi dalla sorgente alla destinazione ha cambiato l'indirizzo IP da privato a pubblico l'ha poi ricambiato da pubblico a privato sembrerà a LN a chi sta su una rete privata diciamo esterna che sia stato inviato da un dispositivo nella sua stessa rete privata ammesso ovviamente che abbiano la stessa sottorete perché quando io vado a leggere questo messaggio il protocollo SIP e diciamo il sottoprotocollo SDP mi riportano ancora l'indirizzo IP privato e la porta privata che stavo utilizzando questo è ovviamente un problema fondamentale non si può utilizzare il NAT senza pensare a delle soluzioni per questo problema quindi senza pensare di dover per forza andare a riscrivere i campi negli header SIP e SDP per poterli adattare al NAT effettivamente in questo caso si parla di un registro abbiamo visto l'invite nell'esempio ma poco cambia negli header comunque vengono sempre utilizzati gli indirizzi IP privati cosa che il NAT non vede perché sono trasparenti a NAT che lavora a livelli applicativi più alti e quindi non va a modificare questo è quello che ci siamo detti fondamentalmente finora l'header contact quindi la parte contact del header SIP viene compilato con l'IP del telefono che sarà in generale un IP privato quindi non un IP pubblico questo è un esempio questo è un'analisi una traccia Wireshark di un register inviato da un telefono SNOM su una sottorete che utilizza il NAT senza utilizzare nessuna accortezza nessuno dei rimedi che vedremo poi per ovviare i problemi di NAT con il VoIP questo è il pacchetto che viene inviato dal telefono quindi come vedete il telefono indica come come source il proprio indirizzo IP privato 172.16 e la propria porta ovviamente all'interno del pacchetto SIP c'è lo stesso indirizzo IP privato 172.16 e la stessa porta privata quindi l'indirizzo IP è la porta che il telefono usa nella rete interna ciò che il PBX riceve tenendo conto che in questo caso il PBX era all'esterno della rete quindi ciò che è stato modificato dal NAT è l'indirizzo IP sorgente che adesso appare come un indirizzo IP pubblico 212.124 all'interno però dell'header SIP quindi all'interno del parametro contact l'indirizzo IP del pacchetto e ancora l'indirizzo IP privato questo perché il NAT è stato in grado di cambiare l'indirizzo IP nell'header IP stesso e anche qui viene utilizzato l'UDP e anche avrà cambiato anche questa porta ovviamente che adesso è la 11.62 con l'interno è la 32.768 quindi è stata modificata correttamente ma il NAT non ha nessun potere sul cambiare l'indirizzo IP contenuto nell'header SIP questo è l'SDP relativo a non ricordo se fosse un invite oppure no questo è un register questo è nel caso stessimo inviando per esempio un invite questa è la parte SDP del pacchetto SIP quindi è sotto protocollo SDP anche in questo caso nel campo contact troveremo sempre l'indirizzo IP privato del telefono che inizia in questo caso la sessione di invite e nel campo media troveremo in particolare la porta alla quale voglio ricevere l'audio RTP che però è la porta privata del telefono nella sottorete privata questo potrebbe in generale essere diverso dalla porta pubblica quindi se qualcuno rispondesse a questa porta questo messaggio potrebbe non arrivare a destinazione perché in generale il NAT non sta utilizzando questa porta il problema specifico con l'RTP in questo caso quindi abbiamo visto gli esempi e un'analisi diciamo hands-on dei problemi sul SIP e sull'SDP c'è una domanda la leggo visto che è relativa a quello che abbiamo appena fatto è possibile collegare due terminali SIP tra di loro assegnando due numeri interni senza alcun PBX VOIP se sì come allora magari se abbiamo tempo la vediamo alla fine non mi sembra relativa al webinar NAT in questo caso quindi preferisco procedere se abbiamo tempo la vediamo alla fine altrimenti magari ne parliamo in un TIC direttamente creato con noi in generale si può fare una chiamata IP2IP quindi senza bisogno di un PBX in mezzo però vediamo se riusciamo a parlare alla fine del webinar altrimenti ne parleremo magari in separata sede allora un'altra problematica scusatemi tutta dal NAT per quanto riguarda il flusso RTP quindi il flusso audio vero e proprio è che durante lo scambio di invite e ok quindi il telefono invia l'invite riceve l'ok o viceversa con la sintassi SDP vengono negoziati gli indirizzi IP e le porte da utilizzare per la sessione RTP gli indirizzi IP sono generalmente gli IP privati dei due endpoint dei due telefoni dei due dispositivi nelle reti locali e le porte vengono negoziate dinamicamente infatti si chiama negoziazione proprio perché non sono assegnate a priori ma vengono negoziate durante questo scambio di invite e ok se ci sono dei firewall che non sono in grado di aprire dinamicamente le porte quindi che non sono in grado di qualsiasi porta venga negoziata nella sessione RTP lasciare che passi un flusso audio su queste porte posso configurare alcune porte staticamente aperte su questo firewall e devo però andare a ridurre per motivi di sicurezza il range di porte RTP negoziate è possibile impostare sui telefoni SNOM ovviamente quindi se so che dovrò utilizzare per esempio fino a 10 flussi RTP in contemporanea posso ridurre il range di porte che l'RTP può negoziare a queste 10 e aprire solo queste 10 sul firewall altrimenti dovrei aprire tutte le porte possibili sul firewall cosa che renderebbe il firewall fondamentalmente abbastanza inutile quindi comunque mi espongo leggermente lato sicurezza ma il meno possibile nel senso che apro solo il range di porte necessarie ovviamente la cosa migliore è avere un file che sia in grado dinamicamente di aprire e chiudere porte se le richieste arrivano da un dispositivo interno sicuro con delle credenziali sul firewall che possono essere considerate sicure se utilizzo il protocollo RTCP ogni conversazione ha bisogno di realtà due porte quindi in questo caso bisogna stare attenti ad aprire il doppio delle porte che saranno necessarie per le conversazioni quindi se ho bisogno di 10 conversazioni contemporane dovrò aprire 20 porte ovviamente ma qui basta aprire il numero di porte corretto sul firewall ci sono delle soluzioni applicabili e utilizzabili nel caso di NAT per risolvere i problemi di SIP di VOIP di RTP di SDP queste soluzioni sono più o meno riassunte qui le vedremo adesso nello specifico vedete vanno dal dal sinistra a destra dal home office small office small medium all'enterprise che sono ovviamente le aziende più grandi e complesse la freccia sotto dove probabilmente è andata persa la di Tascalia è l'effort che va utilizzato per tenere in pieno una soluzione di questo tipo quindi dal nulla al molto elevato quindi l'effort in termini di capacità di questi dispositivi di ovviamente maneggiare un grande numero di pacchetti con operazioni che sono abbastanza complicate a volte e quindi capacità strettamente di CPU su questi dispositivi qui c'è una diciamo tabella riassuntiva un po' di quello che del delle soluzioni applicabili con diciamo i pro e i contro ma adesso li vedremo un po' più nel dettaglio perché penso che vedere la tabella prima come prima cosa non ci sarà troppo utile la prima soluzione che ormai in realtà non penso venga mai utilizzata si chiama UPNP sta per Universal Plug & Play è in realtà un client SIP implementato basato su Windows che fondamentalmente chiede e permette a NAT di aprire sul firewall le porte necessarie alla comunicazione questo ha supportato sia lato client che lato firewall e è un'alternativa che viene utilizzata pochissimo se non appunto per home users ma che fanno un utilizzo proprio basico tramite laptop del protocollo VoIP SIP in generale questo perché è sfruttatissimo per gli attacchi informatici visto che se io sono all'interno della sottorete se io riesco a mettermi all'interno della sottorete posso chiedere al firewall tramite UPNP di aprire qualsiasi porta io voglia il firewall se supporta l'UPNP vuol dire che di base crede al dispositivo interno lo prende come sicuro e apre tutte le porte che gli vengono richieste ovviamente non è una soluzione molto sicura e sinceramente non è quasi mai utilizzata e risolve comunque i problemi di SIP soltanto su dispositivi basati su Windows fondamentalmente ci sono altre soluzioni che sono diciamo largamente utilizzate per imprese medie medio piccole sono state proposte dalla IETF che è un comitato di persone che studiano e propongono soluzioni e protocolli per problemi in generale legati allo stack protocollare che si utilizza su internet sfruttano tutte dei server esterni alla rete come vedremo in realtà le due soluzioni che sfruttano i server sono STAN e TURN ICE è un insieme di algoritmi che utilizza STAN e TURN in maniera combinata sono dei metodi per cui vengono utilizzati e sovrascritti nei pacchetti SIP delle porte e degli indirizzi P dedicati alla comunicazione SIP e non possono ovviamente essere utilizzati in ogni scenario perché presuppongono dei comportamenti di NATE firewall definiti cioè la possibilità per esempio del dispositivo della rete interna di parlare con questi server esterni cosa che ovviamente a seconda di quanto di quante restrizioni ci sono sul firewall potrebbe essere permessa oppure no lo STAN è una delle più utilizzate soprattutto come vedremo quando si utilizza l'algoritmo ICE abbiamo utilizzato molto anche questo questo server STAN stanza per Simple Transversal of UDP through NAT è fondamentalmente un protocollo che è stato definito per la comunicazione tra client e il server quindi mi serve un server esterno che permette al client interno di inviare una richiesta verso questo server che mi comunicherà poi tramite un discovery e un response quindi una richiesta e una risposta l'indirizzo IP pubblico e la porta che il dispositivo interno sta utilizzando va supportato sul dispositivo interno quindi nel nostro caso per esempio sul telefono perché quando il telefono riceve il response dal server STAN deve essere in grado di sostituire nel proprio pacchetto SIP l'indirizzo IP interno del telefono l'indirizzo IP locale con l'indirizzo IP pubblico che è stato comunicato dal server STAN quindi il telefono deve essere in grado di modificare gli header SIP prima di inviare un pacchetto SIP questo è un po' il funzionamento il NAT in questo caso quindi il firewall deve permettere tutto il traffico diretto a questo IP a questa porta quindi a quelli del client funziona con il full con NAT per esempio viene bloccato dalla symmetric NAT perché lo STAN server risponderà ad una sessione con un indirizzo IP e una porta esterni che non sono quelle che poi il client utilizzerà quando deve parlare per esempio con il PBX quindi sul symmetric NAT questa soluzione non può essere implementata lo schema è quello sotto il client il telefono invia passando tramite NAT allo STAN server che quindi deve essere esterno perché il pacchetto deve per forza passare tramite NAT una discovery che è qual è il mio indirizzo IP e porta fondamentalmente lo STAN server risponde sempre tramite NAT il telefono prende questa informazione e poi riesce a riscriverla nei pacchetti SIP quindi invierà un pacchetto SIP che viene da questo indirizzo pubblico 1468 porta 8877 invece che utilizzare il suo indirizzo IP privato questa è un'analisi che non faremo per tutti anche perché insomma i funzionamenti sono abbastanza simili è molto sfocato quindi non penso si legga un granché ma questo fondamentalmente è il banding response quindi la risposta del server STAN ad un telefono SNOM dove il server semplicemente va a indicare in questa sezione che è la sezione attributi qual è l'indirizzo IP e la porta pubblici che lui vede dal NAT quindi qual è l'indirizzo IP pubblico e porta il NAT ad utilizzato per comunicare con lo stand server una volta che è stata fatta questa procedura di discovery nel contact in questo che è il campo contact il telefono deve essere in grado di utilizzare questo indirizzo IP pubblico e la porta esterna per comunicare verso l'esterno quindi il NAT si prenderà cura dell'header IP ma deve essere il telefono che è in grado di utilizzare l'informazione ricevuta dallo STAN per sostituirla all'interno del proprio header il register così come tutti i pacchetti SIP che verranno utilizzati da lì in poi vengono modificati dal telefono con l'indirizzo IP pubblico e la porta esterna in questo grado in questo caso il PBX esterno ovviamente sarà in grado di raggiungere il telefono in qualsiasi momento perché l'indirizzo IP verrà rimappato dal NAT e il campo contact del SIP è stato rimappato dal telefono quindi il tutto può essere installato correttamente su tutti i livelli dall'IP UDP OTCP SIP e SDP e normalmente le richieste verso lo stand server vengono effettuate ovviamente prima di inviare una register in modo che se invio una nuova register una re-register devo essere sicuro che NAT non abbia aggiornato l'indirizzo IP e la porta e quindi invio prima una richiesta allo stand questo è il diagramma quello che siamo detti fino adesso fondamentalmente il payload è l'indirizzo IP che il lo stand server vede come arrivante dal NAT quindi lo comunica al telefono che potrà utilizzarlo il discovery del NAT per lo stand server è stato definito in una RFC specifica segue questo schema ok mi sembra mancano delle slide comunque le slide che mancano ok no qua c'è già il turn ok può darsi che questa sia una versione leggermente non aggiornatissima del pdf ma le slide scrivono fondamentalmente questo diagramma di funzionamento in cui la prima volta che il telefono viene connesso per capire se c'è un server stand oppure no fa dei tentativi che sono fondamentalmente relativi a capire che tipo di NAT viene utilizzato e come comportarsi di conseguenza se seguite questo diagramma è abbastanza diciamo intuitivo va seguito pezzo per pezzo ma è abbastanza intuitivo per esempio il test 1 è inviare una discovery c'è una response no allora siamo bloccati ovviamente l'indirizzo IP è bloccato c'è una discovery c'è una response sì la responsa ha lo stesso indirizzo IP se ce l'ha non c'è NAT perché ovviamente se invio un indirizzo IP privato ricevo da un indirizzo IP privato vuol dire che non c'è NAT se non c'è c'è NAT eccetera eccetera poi si fanno tutti questi test sulle slide che vi verranno passate dovreste avere anche un pochettino una spiegazione più dettagliata di questi test comunque non sono niente di trascendentale tra virgolette sono solo sono abbastanza intuitivi insomma a seconda della response che ricevo il telefono dovrà e sarà in grado di capire che tipo di NAT si sta utilizzando quindi se non c'è NAT se è simmetrico restricted full cone o port restricted cone come dicevamo prima non si possono utilizzare il NAT simmetrico e lo STAN questo perché il NAT simmetrico crea una mappatura diversa per ogni dispositivo esterno contattato quindi la mappatura che verrà fornita dallo server STAN che risponderà al telefono dicendo quando parli con me io vedo questo indirizzo IP e questa porta sarà diversa da quella che il telefono utilizza con altri dispositivi esterni quindi per esempio con il PBX esterno quindi il telefono non può utilizzare come per buona quella quella informazione che viene passata dallo STAN perché non sarà identica se devo comunicare con nessun altro c'è una domanda nel frattempo io utilizzo uno STAN della ZOIPER quali sono quali più affidabili che voi consigliate in realtà non abbiamo dei consigli specifici nel senso che il telefono come vedremo poi può utilizzare il server STAN ma non ci occupiamo dei server STAN in generale quindi non abbiamo niente da consigliare non fa parte diciamo della nostra competenza ecco quindi non vogliamo nemmeno dare consigli sbagliati quindi ci asteniamo assolutamente a consigliare i server visto che sono esterni ai telefoni stessi un'altra soluzione è il TURN o TURN trasversal using relay NAT fondamentalmente permette ai dispositivi di ricevere ovviamente traffico SIP tramite TCP UDP è un server sempre esterno nella rete che però risolve anche il problema del NAT simmetrico quindi viene utilizzato spesso per risolvere il problema del NAT simmetrico e fondamentalmente assegna o segnala che è più o meno la nostra cosa nel senso che li decide e poi li comunica al telefono un indirizzo IP pubblico è una porta su un server esterno che farà da relay tra il dispositivo il telefono e tutta la rete esterna quindi fondamentalmente tutti i clienti dietro un NAT vengono connessi a questo singolo server turn che filtrerà e diciamo rielaborerà tutto ciò che passa dal NAT questo più o meno è il come funziona quindi questo è il diagramma qui sotto e ogni dato che viene ricevuto sul server turn viene poi reinviato quindi agisce come un relay così come lo fa anche il flusso RTP quindi come vedete sotto anche il flusso RTP passa da questo server questo server non ha nessun'altra funzione che assegnare un un indirizzo IP pubblico al telefono quindi semplicemente il telefono chiederà manderà una discovery al server turn chiedendogli qual è il mio indirizzo IP pubblico assegniamo un indirizzo IP pubblico il server turn lo assegnerà e d'ora in poi tutto ciò che passa dal telefono e va verso l'esterno utilizzerà quell'indirizzo IP pubblico specifico questo va a ovviare i problemi del NAT simmetrico perché chi assegna in realtà l'indirizzo IP pubblico è il server turn quindi è vero che tutto verrà cambiato con una porta di indirizzi IP diversi passando dal NAT simmetrico a seconda della terza parte con cui sto parlando ma è anche vero che poi il server turn diciamo ricambierà tutto il ladder IP per far sì che in realtà venga utilizzato l'indirizzo IP pubblico e la porta che il server turn stesso ha assegnato al telefono questo è il diagramma di funzionamento come vedete c'è un turn che è la richiesta assegniamo un indirizzo IP o qual è il mio indirizzo IP il server turn risponde dicendo l'indirizzo IP e la porta che ti ho assegnato sono queste 64 251 porta 51292 vabbè vengono schermati di equipa live questa è una cosa che si fa sempre per tenere i NAT e i firewall aperti quindi questa è una cosa che si vedrà in qualsiasi diagramma in realtà quando invio un zip invite il telefono utilizza nella linea contact l'IP e la porta che il server turn gli ha assegnato scusate che vengono filtrate tramite il NAT ma che verranno poi inviate verso l'esterno con un IP e una porta pubblici ma la cosa importante è che ci saranno un IP ed una porta pubblici anche nella sezione SIP quindi nel header SIP nel header SDP quando poi l'invive verrà risposto c'è stato tutto lo scambio SIP e inizierà il flusso RTP il flusso RTP verrà inviato direttamente al server turn come vedete l'indirizzo IP pubblico che viene assegnato al telefono è lo stesso indirizzo IP del server turn ovviamente sarà poi in base alla porta che il server saprà con chi deve comunicare il flusso RTP viene inviato al server turn che aggiungerà un data indication cioè un piccolo header per diciamo indirizzare correttamente per dire al NAT di indirizzare correttamente questo pacchetto verso il telefono e il flusso RTP verrà poi inviato al telefono e viceversa vedremo la stessa cosa quindi il flusso RTP che va dal telefono al NAT dal NAT al server turn nel server turn verso l'esterno c'è una domanda come si implementa turn su sistema SNOM ci vuole un provider ci vuole un server turn ovviamente e fondamentalmente non molto altro ma il server turn solitamente non viene mai utilizzato da solo in realtà viene utilizzato questo protocollo IIS o ICE che sta per Interactive Connectivity Establishment che è un insieme di più protocolli che fondamentalmente definisce la modalità di installamento scegliendo quale dei due protocolli quale dei due protocolli server star 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 o turn sia meglio utilizzare è una soluzione molto completa che viene utilizzata solitamente quando si utilizza un server turn quindi non c'è mai l'opzione turn di solito c'è sempre l'opzione ICE che poi nel caso ci sia soltanto un server turn esterno ovviamente utilizzerà quello e si basa per sempre su approcci client server come abbiamo visto stun e turn sono due server esterni quindi non ci sono degli approcci in cui il client direttamente può andare a scoprirsi proprio indirizzo IP quindi il telefono ha sempre bisogno di un server esterno che glielo comunichi il supporto ICE è abbastanza limitato a causa della complessità questo soprattutto perché il protocollo dovendo scegliere solitamente tra start e turn è un protocollo abbastanza complesso di solito viene utilizzato ve lo dico la soluzione per le installazioni medio piccole o anche medio grandi è sempre il server stun cioè è proprio ormai diventato uno degli standard per la risoluzione dei problemi di NAT nel mondo reale ecco soluzioni applicabili in telefoni SNOM sono che il telefono SNOM supporta sia ICE che va attivato o disattivato va solo attivato o disattivato perché poi sarà il protocollo ICE a gestire il tutto quindi a capire se c'è un server stun un server turn a comunicare con il telefono quindi il telefono semplicemente manderà delle discovery verso cioè formate in modo che soddisfino il protocollo ICE e poi sarà il protocollo ICE implementato su un server esterno a rispondere in qualche modo si può indicare però siccome è appunto la soluzione più indicata spesso ICE non è supportato il server stun scusatemi quindi l'indirizzo IP è la porta esterni del server stun si può indicare l'intervallo in secondi questo perché spesso vengono utilizzati gli indirizzi IP pubblici che sono dinamici quindi che cambiano se so che cambiano ogni 24 ore posso inserire il valore in secondi delle 24 ore scusate stavo nel frattempo starnutendo e poi c'è un'ultima opzione che è il keep alive interval che può essere utilizzata è sempre un'opzione da specificare in secondi per inviare un keep alive verso il server esterno in modo da tenere le porte aperte che come abbiamo visto potrebbe essere una delle cose che va a bloccare se il firewall non vede attività potrebbe andare a chiudere le porte altre soluzioni che vengono implementate anche questa molto spesso session board controller è quello che viene chiamato SBC o SBC è una soluzione molto utilizzata molto implementata va implementato nella rete dei service provider quindi se avete un ppx in cloud per esempio sarà implementato nella loro rete e il session board controller in realtà non è nient'altro che un'integrazione di solito una combinazione di stun turn e del protocollo ICE in modo che possa agire come server stun o turn per questi device e soprattutto quelli diciamo un pochettino più recenti gli SBC offrono anche quello che viene chiamato FENT o far and transversal per il NAT che fondamentalmente non è altro che la possibilità di sovrascrivere tutte le informazioni SIP e SDP che vengono utilizzate da NAT quindi l'indice P pubblico e la porta esterni direttamente nei pacchetti SIP e SDP è ovviamente una soluzione complessa che comporta un utilizzo di CPU ancora più elevato perché non devo solo defragmentare i pacchetti P e i pacchetti UDP ma anche SIP e SDP per andare a modificarli direttamente quindi ovviamente vado a esponenzialmente aumentare l'utilizzo della CPU ma siccome questi SBC spesso appunto sono supportati dai call providers sono spesso i dispositivi dei server molto complessi che hanno delle potenze di calcolo molto elevate quindi spesso soffortano anche questa cosa che è un protocollo che non prevede che il telefono vada a scoprire il proprio indirizzo IP e lo riscriva da solo ma semplicemente che quando tutto arriva a questo SBC supportato nella rete del provider il tutto venga cambiato dall'SBC direttamente quindi ovviamente senza che il telefono debba andare a scoprire il proprio indirizzo IP pubblico ci sono altre due soluzioni che vengono utilizzate di solito per livelli diciamo enterprise cosiddetti quindi per l'azienda di grandi dimensioni questo perché sono soluzioni abbastanza complesse e che vanno implementate ad hoc su misura molto costose quindi ci deve essere ovviamente un effort dietro che valga la pena implementare la prima è il SIP capable firewall cioè un firewall che sia in grado di analizzare e lavorare con il protocollo SIP sono dei firewall ovviamente molto specifici e offrono una sicurezza elevata questo perché tutto passa da questi firewall quindi non c'è nessun server esterno non c'è bisogno di aprire porte chiudere porte keep alive il firewall essendo SIP capable farà tutto ciò si prenderà carico di tutto ciò che serve per permettere la risoluzione di tutti i problemi di NAT con il protocollo SIP di solito intrano anche dei server proxy e o nel senso che di solito è un E o un back to back user agent questo per integrare tutto ciò che si può direttamente in un solo dispositivo e sono dei firewall basati sull'algoritmo SIP ALG che è una cosa che penso conosceremo tutti che sta per SIP application layer gateway se è implementato in maniera non corretta questo crea dei problemi giganteschi perché va a modificare i pacchetti SIP in maniera errata quindi va a modificare i pacchetti SIP facendo in modo che non arrivino mai a destinazione e viene utilizzata per le imprese come abbiamo detto enterprise molto grandi ma per scenari base questo perché fondamentalmente cerca di risolvere o risolve se è implementato correttamente il problema di NAT elaborando tutti i pacchetti mentre arrivano o mentre passano da questo SIP capable firewall questo comporta una spesa di CPU e di energie molto molto elevata da parte di questo firewall che deve essere ovviamente in grado di gestire il tutto soprattutto siccome sono dei appunto diciamo dispositivi abbastanza costosi vengono utilizzati su aziende molto grandi quindi il flusso i dati da modificare può essere può essere molto elevato questi sono un po' i pro del SIP capable firewall come vedete insomma sono tutte cose che abbiamo già detto più o meno fino adesso ispeziona ogni pacchetto quindi ispeziona e modifica se necessario ogni pacchetto e poi lo invia con tutto diciamo il contact del protocollo SIP modificato correttamente supporto al farenda transversal che è il FEND che abbiamo visto prima quindi diciamo che chiunque si connetta verso questo firewall anche da remoto può avere supporto nella modifica dei pacchetti SIP quindi anche se io sono un laboratorio remoto ma mi connetto a questo SIP capable firewall tutti i pacchetti passeranno da lì e verranno rielaborati da questo supporto TLS e SRTP solitamente perché deve rielaborare lui stessi i pacchetti quindi i pacchetti li verranno consegnati dal telefono con l'individuo IP pubblico quindi deve per forza supportarli perché deve andare a spacchettare i pacchetti modificarli e riempacchettarli correttamente e supporto vabbè solitamente autenticazione filtering routing avanzati eccetera questo ovviamente dipende da quale SIP capable firewall state utilizzando ma ripeto sono solitamente soluzioni molto complete e ovviamente molto costose l'enterprise SBC è una soluzione diciamo parallela e simile al SIP capable firewall vengono sono degli SBC session board controller che vengono affiancati ai firewall che già esistono se il firewall ovviamente non supporta il protocollo SIP quindi non è un SIP capable firewall e fondamentalmente supportano tutto ciò che supporta un SIP capable firewall lato SIP ma non sono dei firewall quindi semplicemente vediamo se c'è un esempio più specifico non c'è comunque semplicemente appunto vengono affiancati ai firewall in modo che il firewall passi tutto all'enterprise SBC l'enterprise SBC non faccia nient'altro che ciò che faceva un SIP capable firewall quindi va a modificare tutti i pacchetti SIP in maniera corretta sia in ingresso che in uscita per andare a inserire l'indirizzo IP pubblico o andare a prendere l'indirizzo IP pubblico dalla parte SIP dei pacchetti ricevuti o che si stanno inviando non fa da firewall quindi vanno affiancati uno in cola all'altro un'altra soluzione applicabile ovviamente è la VPN la VPN non ha la necessità di un indirizzo IP pubblico tra virgolette è utilizzata soprattutto nell'ambito di home worker nel senso che per esempio io ho un telefono ovviamente sulla mia scrivania collegato in VPN con il nostro ufficio centrale di Berlino che quindi ha un indirizzo IP privato e sarà poi tutto spostato quindi tutta la gestione dei problemi nata è spostata nel nostro ufficio di Berlino direttamente e necessita di una maggiore diciamo potenza di calcolo sul telefono ovviamente per lavorare i pacchetti crittografati perché vengono inviati crittografati tramite la VPN però penso che più o meno tutti sappiamo cosa è la VPN mi permette di essere in maniera virtuale su una rete remota come se io fossi effettivamente fisicamente su quella rete privata quindi il tutto poi viene gestito direttamente in quella rete privata i nostri telefoni supportano la possibilità di abilitare la VPN supportiamo al momento soltanto il protocollo OpenVPN che penso sia il più diffuso per poter supportare la VPN c'è un firmware specifico per ogni versione firmware c'è un piccolo pacchetto aggiuntivo che va installato per dare supporto alla VPN altrimenti non vedrete proprio le opzioni VPN sul telefono ci sono molti motivi nel perché si utilizza la VPN e nel perché noi utilizziamo OpenVPN in generale la VPN si utilizza per motivi di sicurezza perché ovviamente io non ho un firewall in grado a casa io lavoro in questo momento da casa non ho un firewall in grado di filtrare il tutto correttamente come fa il nostro firewall professionale nel nostro ufficio di Berlino quindi il fatto che io sia in connessione con l'ufficio di Berlino mi aiuta a garantire la sicurezza anche sul mio telefono e non solo sul telefono ovviamente lo faccio con tutti i dispositivi che utilizzo però stiamo parlando ovviamente di telefone OpenVPN perché è una cosa supportata ormai dalla maggior parte dei dispositivi è la più utilizzata in assoluto quindi è quella su cui abbiamo deciso di puntare visto che come vedete si può utilizzare praticamente su ogni dispositivo al momento si può utilizzare e implementare correttamente OpenVPN la soluzione ideale del NAT sarà l'arrivo dell'IP versione 6 se ne parla ormai da penso non lo so da un tempo infinito l'IP versione 6 è se non la conoscete una versione degli indirizzi IP più estesa della versione 4 che permetterà fondamentalmente almeno in maniera teorica di avere abbastanza IP pubblici da poter garantire un IP pubblico per ogni dispositivo connesso in rete quindi andando a ovviare la presenza stessa del NAT e serviranno ovviamente dei proxy se si vuole utilizzare dei dispositivi in IP versione 6 in IP versione 4 ma la IP versione 6 ancora è più teorica che implementata i nostri telefoni sono comunque già pronti per l'IP versione 6 si può ovviamente attivare esattamente come l'IP versione 4 senza nessun problema tramite di HCP ovviamente tutti i dispositivi SIP server di HCP devono implementare l'IP versione 6 altrimenti non è configurabile sul telefono al momento non credo ci siano molti PBX centralini che supportano l'IP versione 6 quindi per il momento è qui c'è esiste funzionerà ma al momento non è utilizzabile non è implementata l'RTP ne abbiamo parlato un pochettino prima tutte le soluzioni che abbiamo visto sono relative più in problemi SIP SDP che in problemi RTP nell'RTP è necessario come abbiamo visto prima utilizzare un flusso che sia simmetrico quindi che venga inviato ricevuto sulla stessa porta questo per il protocollo è RTP le porte solitamente RTP classiche diciamo sono tra la 10.000 e la 20.000 mentre ci sono moltissime porte perché posso avere moltissime comunicazioni SDP nello stesso momento e quando una comunicazione SDP ha un flusso audio continuo la porta verrà impegnata se stiamo utilizzando un NAT simmetrico quindi per il quale la porta viene assegnata univocamente per ogni dispositivo esterno con il quale sto parlando servirà un media relay server che non è nient'altro che una cosa di questo tipo dove come vedrete ho due telefoni una sinistra una destra due NAT simmetrici che permettono ai telefoni di uscire verso la rete internet pubblica verso la rete esterna ci saranno un SIP proxy quindi un PBX o un SIP proxy che parla con un PBX insomma tutta la gestione della parte SIP può essere fatta con un certo dispositivo ci sarà però un media relay server che deve connettere i flussi RTP tra i due telefoni questo perché se i due telefoni non escono dal NAT con la stessa porta potranno parlare con il media server che garantirà simmetria tra la porta per esempio qui tra la parte destra del media server e il telefono a destra la simmetria tra la parte sinistra e il telefono a sinistra in questo modo i due telefoni possono aprire un flusso RTP anche se non stanno utilizzando loro stessi le stesse porte basta che utilizzino le stesse porte sui due sottopezzi diciamo sottotrunk del flusso RTP per parlare con il media relay server quindi questa è la soluzione utilizzata di solito per il flusso RTP quando si utilizza il NAT simmetrico ok questa era l'ultima l'ultima slide non ci sono state domande nel frattempo mi sembra fatemi controllare giusto per sì perfetto quindi se avete domande qualsiasi cosa adesso vi lasciamo un po' di tempo ovviamente per fare domande non so se se Massimo Claudio hanno qualcosa da aggiungere ma no allora per quanto mi riguarda direi di no anche perché ho visto che comunque ho seguito chiaramente tutto il webinar hai risposto direttamente alle domande che venivano fatte man mano io direi in generale spesso i dubbi poi vengono nel momento in cui il webinar viene chiuso o comunque il giorno dopo perché si inizia a pensare alle proprie installazioni certo nel caso fate tranquillamente riferimento a me o a Claudio in modo tale da anche in una fase successiva poter rispondere a qualsiasi dubbio ma poi voi avete comunque una buona prassi di anticipo io mi ricordo che quando fate il phase out easy come con altri brand ti avvisano oggi che da ieri non c'è più allora ho visto che c'era una domanda poi che si è fatta diciamo un po' in tempo fa che era se è possibile collegare due terminali SIP tra di loro senza un PBX visto che abbiamo un attimo se poi qualcuno ha qualche domanda nel frattempo la può scrivere è possibile sulla nostra pagina service si può cercare peer-to-peer IP e viene descritta la procedura per appunto far parlare due telefoni direttamente basta che siano sulla stessa sottorete IP quindi basta digitare l'indirizzo IP dell'altro telefono posso aprire una chiamata ho soltanto le funzionalità base della chiamata ovviamente perché audio disattivato le funzionalità diciamo di tipo per esempio il transfer il trasferimento l'attesa eccetera si basano sulle comunicazioni e pacchetti SIP con il PBX quindi non sono possibile una chiamata IP-to-IP bisogna disattivare certi 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 parametri che sono sul telefono in maniera intrinseca per garantire sicurezza quindi per impedire che chiunque apre una sessione verso il mio telefono adesso non mi ricordo ovviamente al volo tutti sono due o tre parametri però appunto se andate sulla nostra pagina service e cercate peer-to-peer IP trovate tutta la descrizione dei parametri del come fa c'è un'altra domanda nel frattempo ho avuto spesso problemi con un certo tipo di router che mi lascia la connessione verso server aperta anche se server ha cancellato la connessione questo impedisce al telefono di collegarsi ho fatto sia anche keep alive non risolve solo eliminando fisicamente la connessione che cosa posso fare il router a ALG allora tipicamente questo è uno dei problemi che vengono introdotti dal SIP ALG o SIP o come lo si voglia chiamare tipicamente va disattivato questo protocollo sul router che diciamo in questi casi è la cosa migliore da fare è probabile che il router appunto forzi delle connessioni aperte o dei cambiamenti sui pacchetti SIP per perché per l'algoritmo interno che ha questa è una soluzione migliore anche se in questo caso evidentemente non lo è spesso gli algoritmi SIP che vengono implementati su questi router sono non dico sbagliati ma molto limitanti quindi vanno a creare delle situazioni di problemi ok in questo caso non saprei esattamente come agire su questo router non ho mai avuto a che fare con questo tipo di problema specifico però l'unica soluzione che mi viene in mente è abbassare la durata della della sessione della sessione SIP sul telefono però dubito che questo andrà a risolvere il problema sul router nel senso che forse così facendo il server proverà a attivare una nuova connessione verso il telefono se vede che è scaduta ma ovviamente possiamo andare un pochettino a migliorare la cosa ma la soluzione deve arrivare al lato router non c'è non c'è molto da fare disattivare il SIP ALG di solito aiuta aiuta molto in questi casi direi che non ci sono più domande sì se avete qualsiasi domanda come diceva Massimo ovviamente parlate con lui parlate con Claudio potete aprire un ticket con noi insomma come sapete siamo sempre disponibili audio riattivato esatto magari ne approfitto per ricordarlo in caso in cui doveste poi avere problemi tecnici piuttosto che la necessità di utilizzare sfruttare il supporto tecnico di Snom potete tranquillamente aprire un ticket su helpdesk.snom.com quindi se non l'avete ancora fatto fate tranquillamente una registrazione sia la registrazione che l'apertura del ticket sono in italiano e sostanzialmente gratuiti proprio perché cerchiamo di in Italia dando un supporto a 360 gradi dal punto di vista tecnico con il team di Gianmaria e dal punto di vista commerciale con le persone esatto quindi insomma se volete noi siamo sempre pronti a rispondere perfetto allora io direi che di domande non ce ne sono più di solito quando dico questa cosa arrivano tante domande nel caso in cui così non fosse direi vi ringrazio per l'attenzione spero che il webinar sia stato utile per lo meno per andare a sviluppare un argomento un pochino più particolare rispetto allo standard dopodiché io direi Gian se vuoi ci fermiamo ancora cinque minuti ma se chi non ha comunque altro da fare direi che il webinar è finito per quello lo potete lasciare noi ci fermiamo nel caso in cui proprio qualcuno dovesse avere il dubbio dell'ultimo momento così almeno possiamo rispondere anche a quello certo certo senza problemi perfetto dai grazie a tutti allora grazie buona giornata grazie a tutti ciao ciao ciao